Scoprire il territorio attraverso i saperi e i sapori, le produzioni tipiche e caratteristiche. Proseguono infatti anche in provincia di Arezzo le iniziative di Vetrina Toscana, il progetto di Regione e Union Camere per promuovere ristoranti e botteghe che utilizzano prodotti del territorio. Abbiamo la possibilità proprio di presentarci con dei piatti che utilizzano la filiera corta per le produzioni agroalimentari e soprattutto si presentano anche come forme di attrazione turistica perché riteniamo che la nostra toscanità possa essere presentata a tutto tondo in questo modo, cioè partendo dal prodotto ovviamente primario e poi elaborato e presentato nei luoghi dove appunto si consume e le eccellenze possono essere apprezzate da tutti. Un'esperienza che c'è da tanti anni, evidentemente è una formula che funziona. Sì, è una formula integrata che funziona bene. Quest'anno il calendario delle iniziative si snoda da maggio fino a settembre. Sono iniziative che noi faremo presso i comuni, sette comuni della provincia. Avranno al centro, come dicevamo prima, le grandi eccellenze no gastronomiche, quindi i ristoranti ma anche le botteghe tipiche e il filo conduttore sarà quello dei 500 anni dalla morte di Leonardo Davini. A Sansepolcro arrivano così questo fine settimana i Sapori Divini, la manifestazione promossa dal comune a base di vino e prodotti tipici che ha come intento principale quello di valorizzare le tante specificità del territorio valtiberino. In Valdechiana invece a Castiglion Fiorentino l'appuntamento è per martedì 14 maggio nel suggestivo chiostro di San Francesco con Castiglioni in tavola, un'iniziativa per esaltare i sapori della terra e contemporaneamente per dare supporto al tessuto produttivo del territorio come esercizi commerciali, ristoranti e artigiani. La ristorazione usa molti prodotti del territorio e presenta una ristorazione molto legata al territorio. Queste manifestazioni valorizzano questo aspetto, per questo incontrano anche molto successo, sono un fattore di indubbio anche utilità per il turismo e a noi ci piace lavorare su questi eventi che la valorizzano. Io sostengo sempre che le iniziative che possano promuovere l'eccellenza del nostro territorio sono sempre ben accette. È chiaro che iniziative non possono essere iniziative fine a se stessi o a pochi chilometri di distanza, dobbiamo sempre cercare di fare un passettino in più per far sì che anche la gente da fuori possa essere invogliata a venire nel nostro territorio.